Chi è post-horpe è già tanto che quando entri dentro non ti facciano fare il segno della croce o... ...diti pagani. Warcraft online. Il videogame Dylan Dog usciva in edicola a puntate. Infatti era uno dei pochi giochi originali. Era disponibile in edicola. 10 con vasca. Non 24 con vasca. 10 su 24. Io dico la francese, chissà se è il bidet. Fino agli anni 90 giravamo con l'Atlante del Touring in tre volumi. Io avevo solo il Nord Italia perché viaggiavo poco. L'attività filantropica uno la fa quando... ...o è troppo ricco o ne ha le palle piene, no? Quando c'era lui i MacBook li aggiustavano subito. Ovviamente questa è una riproduzione che avevo fatto per non rovinare l'originale. Perché... ...come ovvio a rosso. Eculvio, tu hai mai telefonato a scrocco? Penso che sia andato in prescrizione il reato, sì. Sono passati 30 anni, sì. Vittorio, lo vedo molto assorto. Come saluti in questo pubblico? Con Stay Angry, Stay Foolish? No. Come saluti in questo pubblico? 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 Come saluti in questo pubblico?